Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Dopo la dolorosa perdita di Maurizio Costanzo, avvenuta alcuni mesi fa, la celebre conduttrice televisiva Maria De Filippi è tornata in breve tempo sul piccolo schermo, mostrando una forza e una dedizione commoventi. Il mondo dello spettacolo però, è stato recentemente agitato da voci, che vorrebbero un presunto flirt tra la De Filippi e il ballerino Clady. In un'intervista rilasciata di recente, Clady ha voluto fare chiarezza, smentendo categoricamente ogni voce circa una presunta relazione amorosa con la conduttrice. Il ballerino ha parlato di Maria De Filippi con parole di stima e affetto, descrivendola come «una donna generosa, precisa e pignola». Le voci non riguardavano soltanto un possibile flirt, ma anche presunti dissidi passati. Era stato infatti ipotizzato che Clady, avesse lasciato il noto programma, Amici, a causa di un litigio con la De Filippi. Anche questa voce è stata prontamente smentita dal ballerino. Contrariamente a quanto ventilato, la relazione professionale tra i due sembra essere più solida che mai. Recentemente, Clady è stato invitato da Maria De Filippi a partecipare ad Amici, come giudice per alcune performance. Un invito che ha suscitato entusiasmo, sia nei fan che negli studenti della celebre scuola televisiva. L'accoglienza calorosa riservata a Clady durante la sua presenza in studio, ha ulteriormente confermato la solidità del rapporto tra lui e la De Filippi, mettendo a tacere ogni dubbio, e mostrando, una volta di più, quanto il mondo dello spettacolo possa essere sorprendente e imprevedibile. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie Grazie